Ariete, al lavoro accadrà forse qualcosa che richiederà concentrazione, prontezza d'azione e di spirito. Sei un lavoratore instancabile e preciso, supererai anche questa giornata. Toro, la tua onestà e precisione verrà apprezzata. Giove sa bene che è sempre la tua lungimiranza a governare le tue scelte. Gemelli, sei altrove, completamente. Forse è meglio lasciare tutto e andare a casa o a fare una passeggiata. Al lavoro oggi proprio non va. Cancro, creatività e malizia sotto le lenzuola saranno oggi linfa vitale per produttività e concentrazione lavorativa. Lunedì di passione travolgente. Leone, oggi terrai le distanze. Hai bisogno di mettere a fuoco un po' di situazioni personali e lavorative. Plutone, riflessivo e attento anche ai più piccoli dettagli. Vergine, tutti i tuoi nervi saranno impegnati in una deleteria gara di sopravvivenza. Volente o nolente, oggi dovrai fare buon viso a cattivo gioco. Bilancia, oggi hai bisogno di concentrazione e ricorda che le opportunità, per coglierle, bisogna prima di tutto essere svegli e vigili. Scorpione, lunedì di passione e grande sensualità. Oggi potrai conquistare tutti solo con la tua eleganza. Zero sforzi, massima resa. Sagittario, quanto ti piace chiacchierare. Complice la tua capacità oratoria e un generale senso di allegria, oggi sarai particolarmente di compagnia e questo piacerà molto. Capricorno, tutto è possibile. Hai voglia di cambiare, di novità professionali, di aria nuova. Speri in un trasferimento? Oggi si muoverà qualcosa. Acquario, chi ha detto che solo a Natale si è tutti più buoni? Oggi grazie alla luna sarai generoso e disponibile, propenso all'ascolto dell'altro e magari anche ad aiutarlo. Pesci, impossibile oggi non risentire del fisiologico rientro al lavoro e dei bagordi di ogni tipo del weekend appena trascorso.